Mancano solo due giorni alla fatidica data del 7 novembre, quando si conoscerà il verdetto definitivo del Consiglio di Stato sull'abbattimento selettivo di 469 cervi in Abruzzo. E mentre si attende il pronunciamento ultimo della magistratura, che dirà ai cacciatori se imbracciare o deporre i fucili, al Tg8 abbiamo ascoltato il parere dell'esperto. Simone Angelucci, responsabile del servizio veterinario del Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo c'è davvero un'emergenza cervi? La popolazione di cervo in Abruzzo è nata e cresciuta sempre in presenza del suo principale predatore che è il lupo, quindi i numeri che abbiamo sono certamente indicativi di una crescita forte della popolazione che dipende dalla disponibilità di aree e di risorse alimentari che in Abruzzo oggettivamente ci sono. Però non è una crescita esponenziale. Si può decidere di iniziare a fare una gestione, è legittimo farlo sotto il profilo normativo, sotto il profilo procedimentale. La cosa va sicuramente affinata. Ma c'è come soluzione da mettere in atto soltanto questo abbattimento selettivo o secondo lei si può pensare anche ad altro? Per quello che viene sottolineato come essere la necessità e la motivazione dell'intervento, per esempio in primi si danni all'agricoltura, bisogna sicuramente intervenire su scala locale. Innanzitutto la legge prevede che si diano indennizi conguri agli agricoltori, che si facciano misure di prevenzione. Non sempre possono essere effettivamente applicate. Stessa cosa riguarda gli incidenti stradali. Non ci sarà una correlazione diretta tra il numero degli animali abbattuti e la diminuzione correlata degli incidenti stradali. Bisogna anche lì intervenire sui singoli tratti più a rischio e fare prima prevenzione. Come ultima soluzione si può ricorrere anche all'abbattimento, ma su scala locale si possono avere dei risultati. Su grande scala sicuramente non darà i risultati attesi. C'è anche chi parla di sterilizzazione delle femmine di cervo? No, assolutamente. Questo è un metodo che non ha senso applicato nella nostra situazione. Non abbiamo densità elevatissime e soprattutto è un metodo che non funziona sulle popolazioni a vita libera, perché non possono essere controllate facilmente con questi sistemi che siano di sterilizzazione farmacologica o anche chirurgica, ma non funziona con le popolazioni a vita libera, non funziona con le grandi popolazioni, sono molto dispendiose e non sono applicabili. Quindi cosa può dirci in merito a questa decisione della regione? Secondo lei è giusta o no? Io non entro nel merito della decisione, che è una decisione di carattere politico istituzionale. Molte regioni fanno gestione del cervo. Noi la dobbiamo fare con maggiore attenzione, perché gli abruzzesi sono abituati a vedere i cervi come un animale oggetto di conservazione. Non c'è da noi la tradizione venatoria che per esempio c'è in molte regioni mitteleuropee. Quindi non è facile avviare questo tipo di attività, va affinata nel senso che mancano delle cose da fare, per esempio i centri di sosta sui territori, perfezionare la procedura che cura la filiera delle carni. E questa cosa va fatta per favorire anche uno sviluppo di una buona cultura venatoria anche presso i cacciatori. Quindi si può fare, dal punto di vista normativo è possibile farlo. Su come farlo ci sarebbe ancora da lavorare.